Tragico incidente nella giornata di ieri un uomo di 78 anni che stava tagliando rami su di un albero è caduto precipitando da un'altezza di circa 3 metri. Con tutta probabilità è deceduto sul colpo. I primi a darne notizie sono stati i sanitari del 118 intervenuti sul posto ed è stato un passante che stava percorrendo la provinciale a Pettinengo ad accorgersi del corpo immobile a terra dell'uomo. Giuliano Trazzi, 78 anni, era caduto da una scala a Pioli su cui era salito per tagliare i rami di un albero con la motossega. Ha battuto violentemente il capo a terra. Inutili soccorsi da parte del 118 e dei carabinieri della stazione di Bioglio. Dopo che il medico legale ha esaminato l'assalma, questa è stata riconsegnata ai familiari. Ancora da stabilire se ha perso l'equilibrio o se l'imbragatura di protezione ha presentato dei problemi. La presenza di quest'ultima denota la massima cautela adottata dell'uomo, precauzione che purtroppo però non è bastata. La dinamica esatta dell'incidente è ora al vaglio delle forze dell'ordine che insieme ai sanitari non hanno potuto fra altro che constatarne il decesso.